Il Consiglio regionale vota il nuovo piano sociosanitario. Alla stazione picchia e morde gli agenti, arrestato Gambiano. Taglio del nastro al nuovo piazzale d'annunzio. Da settembre l'Università di Pesaro si trasferisce a Muraglia. Alla Santa Marta il Festival Utopia diventa una scommessa vinta. Il Consiglio regionale vota il nuovo piano sociosanitario. Il nostro spazio informativo della sera che in questa edizione di martedì 8 agosto apriamo occupandoci di politica perché ad Ancona si sta completando in queste ore l'approvazione del nuovo piano sociosanitario della regione Mar. Si tratta del provvedimento in politica sanitaria centrale nella giunta Acquaroli in merito al quale ascoltiamo i pareri dei capigruppo di partito ai margini del voto. Il punto zero è stato alla fine della pandemia, quindi l'estate del 22. Da quel momento si è lavorato sul fabbisogno, sui temi più importanti al tappeto. È stato costruito un piano, la giunta l'ha prodotto il 23 maggio e a distanza di due mesi, poco più di due mesi, siamo all'approvazione in aula. È quasi un passaggio miracoloso perché soprattutto abbiamo consultato tutti. Ci sono stati 130 soggetti auditi in commissione, 130 è una cifra straordinaria. Tutte le categorie, tutti gli enti, tutte le associazioni che sono state udite hanno portato un contributo. Questo contributo è stato valutato, studiato e portato anche all'interno del gruppo Rinasci Marche. Vede positivamente questo rapporto che c'è stato al di fuori del palazzo. È una svolta epocale perché abbiamo riscritto una pagina della sanità a livello regionale, un nuovo piano sociosanitario che si cala sui territori, non più una sanità centralizzata ma di territorio. È una legge importante, una legge che va a vedere quelli che sono i fabbisogni, le esigenze reali di tutte le comunità a partire da Ancona che è il centro di tutta la sanità dove c'è l'eccellenza ma che riguarda tutto il territorio regionale. Stiamo ponendo attenzione a tutto il territorio e soprattutto anche ai presidi ospedalieri delle zone interne che appunto grazie a questo piano e grazie poi agli altri aziendali saranno sicuramente rivalutati. Staremo a vedere dopo tutto il lavoro anche di integrazione delle sollecitazioni arrivate appunto dal mondo, degli operatori, delle associazioni e dei pazienti, staremo a vedere cosa davvero si potrà realizzare. Le esprime un giudizio assolutamente negativo di questo piano sociosanitario perché praticamente non ha al proprio interno le indicazioni di quali saranno le risorse sia umane che finanziarie per realizzare questo che temiamo rimarrà un libro dei sogni. Fondamentalmente non viene indicato in nessun modo come verranno risolti due problemi fondamentali che come sappiamo bene sono le liste d'attesa e l'altro aspetto è quella della mobilità passiva. Quindi grandi temi che purtroppo rimarranno in evasi. Non è un piano, è un contenitore farcito di tutto che non dà risposte alla salute e alla necessità di sanità dei marchigiani e delle marchigiane. Quello che troviamo in questo contenitore è che tutto si espande, tutto migliora, tutto si potenzia, tutto si incrementa, ma lo facciamo senza scegliere, ma soprattutto senza aggiungere un euro, se non quelli che sono stati sottratti per pagare i direttori delle nuove aste che vengono tolti agli infermieri, vengono tolti all'osso e vengono tolti ai medici. Ed ora la cronaca. Nel prossimo servizio ci occupiamo di un episodio particolarmente turbolento avvenuto alla stazione ferroviaria di Pesaro. Questa mattina gli agenti della questura di Pesaro Urbino hanno accompagnato a potenza un uomo di origine gambiana presso il centro per rimpatrio permanente per predisporne l'espulsione dal territorio italiano. Il gambiano in questione era sceso sabato alla stazione ferroviaria dove era stato trovato senza biglietto del treno e in forte stato di alterazione. Due uomini della questura, intervenuti nella circostanza, lo hanno identificato scoprendone passaporto e permesso di soggiorno scaduto, eppure due denunce pendenti per esistenza pubblico ufficiale combinate a macerate nel 2018 e 2021. Si è così deciso di accompagnarlo in questura, ma l'uomo ha cominciato ad aggredire gli agenti, prima verbalmente ineggiando da là e minacciandoli ripetutamente di morte, poi fisicamente tirando calci, pugni e prendendo pure a morsi il braccio di uno degli agenti, provocando ad entrambi lesioni personali refertate al pronto soccorso. Giunto in questura, ha continuato l'atteggiamento ostile nei confronti di chiunque gli è capitato a tiro. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto per resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento di beni dello Stato. Oggi il via alle pratiche per l'espulsione. Ancora cronaca, passando da Pesaro a Fano, dove arrivano i primi provvedimenti giudiziari per i cinque giovanissimi denunciati dai carabinieri per un violento pestaggio a un diciottenne avvenuto durante una serata al Lido di Fano. Denunce che vi avevamo raccontato nel nostro Tg due settimane fa e che ora si concretizzano in cinque DASPO urbani per altrettanti ragazzi fra 18 e 23 anni. Allora è stato imposto il divieto di fare accesso nei locali di pubblico intrattenimento della città per tutti i giorni della settimana dalle 18 fino alla chiusura, un orario in cui non potranno nemmeno sostare nelle immediate vicinanze. A carico di tre dei cinque giovani risultati recidivi in merito a certe condotte è stata anche natificata la misura di prevenzione dell'avviso orale che può comportare l'applicazione di misure più gravi. E torniamo su Pesaro cambiando argomento. Nel prossimo servizio andiamo a vedere immagini ed ascoltare commenti in merito al rinnovato piazzale d'annunzio inaugurato ieri sera nel lungomare di Pesaro. Una nuova piazza, una viabilità ripensata, il cascone di Valentino Rossi spostato e appoggiato su una piscina sfioro e poi nuove panchine, nuova illuminazione, nuove piantumazioni pronte a fiorire. Eccolo il nuovo piazzale d'annunzio, nuova agora aggregativa del litorale sud di Pesaro inaugurato ieri sera alla presenza di gran parte della giunta comunale che su questo progetto non ha solo investito 500 mila euro ma ha aggiunto un altro tassello al ripensamento dell'intero lungomare. Siamo molto contenti innanzitutto perché è una piazza e questa è l'ennesima piazza che realizziamo e le piazze sono luoghi di incontro, di socialità, di cultura, di spettacolo quindi siamo molto contenti. Secondo perché va a rafforzare ulteriormente una strategia sul lungomare che è partita dai tanti interventi fatti da Baia Flaminia alla piazza delle Libertà, l'area pedonale, i giardini Nildeiotti e oggi questa piazza dove c'era sostanzialmente uno spartitraffico una piazza nella parte sud di Viale Trieste a vantaggio delle attività che ci sono e anche degli albergatori quindi siamo davvero molto contenti abbiamo ottenuto una mole di investimenti storica un po' alla volta la stiamo spendendo Pesaro sta cambiando, sta cambiando in meglio si riempirà di cantieri nelle prossime settimane però questo è un bel risultato soprattutto per il lungomare per la strategia turistica che stiamo portando avanti. Al fianco della politica gli architetti Ferdinando Leoni, Maurizio Severini e l'ingegnere Cinzio Miccioli che hanno seguito l'iter del progetto e la ditta TR Costruzioni che ha eseguito i lavori accolti dall'applauso di una nutrita schiera di pesaresi turisti. Un luogo che prima era un luogo adibito allo spazio veicolare un incrocio, una rotatoria pensarlo invece come un luogo per la socialità un luogo per la socialità, un agora uno spazio che può essere utilizzato e sarà così già da questa sera dall'associazione degli albergatori che vedranno qua portare una parte importante di quelle che sono le iniziative rivolte alle famiglie e ai bambini che sono uno dei target a cui è stata pensata questa piazza proprio nel momento in cui è nata una tensione importante anche per il verde che passa da occupare un 2% di quella che è la superficie di questa piazza a un quasi 30% con una serie di vegetazioni studiate appunto per il luogo che poi nel corso del tempo vedranno anche diciamo crescere e quindi creare maggiori zone d'ombra proprio con la funzione anche di abbattere la temperatura del suolo che in qualche modo qua sappiamo essere importante soprattutto nelle giornate estive. Questo è già un ottimo punto di partenza è soddisfacente, la piazza è venuta un'ottima piazza anche dal punto di vista del verde poi spero che nei prossimi mesi crescerà ulteriormente il verde che è stato piantumato in queste settimane credo che più che altro però sia una piazza necessaria è necessaria per proseguire la passeggiata del lungomare è necessaria per la riqualificazione del lungomare è un punto di partenza proprio perché da qui poi per proseguire la passeggiata verso Fano quindi ci sarà ancora del lavoro da fare in una riqualificazione complessiva che spero che le amministrazioni, l'amministrazione attuale e le amministrazioni future possano prendere in seria considerazione il fatto di avere un lungomare moderno, rinnovato per avere una città più attrattiva ed accogliente. Un intervento fortemente caldeggiato dagli albergatori che già ieri sera sono partiti col primo di tanti appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi da ospitare nel piazzale Tutti i venerdì avremo le proiezioni il mercoledì avremo lo staff di Pesaro Village che animerà la piazza così come nelle altre serate avremo sempre qualcosa per i bambini dalle 17 in poi potranno trovare delle attività e delle cose gradevoli da fare. Piazzale d'Annunzio cambia ma resta la piazza del casco di Valentino ora un po' più defilato ma comunque elemento che continua a richiamare l'attenzione dei turisti. Non è un monumento ma è un'icona dedicata ad un personaggio che è entrato nella storia del motociclismo dello sport italiano e mondiale non a caso è uno dei luoghi più fotografati da tanti turisti tanti motociclisti che vengono da tutto il mondo si fermano qua per fare la foto con il casco di Valentino questo era il nostro obiettivo ovviamente un casco è un casco non è un'opera d'arte ma un'icona che ha a che fare con l'identità della nostra terra. È ufficiale da settembre l'Università di Pesaro si trasferirà dai locali di Pesaro Studi di Viale Trieste nel quartiere di Muraglia nei locali della sede di quartiere. È un agosto di grandi manovre per conciliare gli spazi fra scuola e università da settembre Pesaro Studi di Viale Trieste diventerà un polo interamente scolastico per ospitare sia gli studenti della Dante Alighieri in vista della demolizione della scuola di Soria sia quelli della primaria Mascarucci edificio provato dalle scosse sismiche di novembre va da sé che l'Università traslocherà dal mare verso il quartiere di Muraglia come da indicazione del comune La sede destinata è quella di Via Petrarca 18 sede del quartiere 7 Montegranaro-Muraglia dove già da settembre saranno trasferiti il corso in Sistemi Industriali e dell'Informazione e i corsi di lauree in Ingegneria per la Sostenibilità Industriale e laurea magistrale in Green Industrial Engineering dell'Università Politecnica delle Marche Il Consiglio di quartiere e le associazioni si trasferiranno in locali attigui per consentire all'Università una sede temporanea adeguata Stanno tutti lavorando in ufficio per far sì che i ragazzi potranno entrare a settembre nella sede di Muraglia Il lavoro che stanno effettuando è grande verrà spostato anche l'ufficio di accentramento però è fondamentale per noi che l'Università vada avanti come sapete qualche settimana fa l'assessore Pozzi ha portato anche la delibera del nuovo progetto del San Domenico quindi poi tra tre anni l'Università avrà spazio qua in centro storico cosa che abbiamo sempre promesso quindi città-cantiere però stiamo lavorando l'Università andrà avanti e stiamo anche cercando di aumentare i servizi per i ragazzi dell'Università Arrivano importanti e positive novità in merito ai finanziamenti ai progetti a difesa del suolo dei comuni e delle Marche che ne avevano fatto richiesta alla Regione Il dissesto idrogeologico purtroppo a causa di eventi sempre più estremi è una delle massime problematiche che stiamo vivendo anche nella Regione Marche cerchiamo di affrontarlo come assessorato regionale all'ambiente il mio assessorato cerchiamo di affrontarlo con tutte le risorse possibili nel 2021 avevamo fatto un bando al quale avevano partecipato 61 comuni della Regione Marche e noi avevamo finanziato interventi in quel momento per 2 milioni e mezzo per 17 comuni poi l'anno successivo, nel 2022, avevamo altri 2 milioni a disposizione e avevamo scorso quella gradatoria per altri 12 interventi arrivando quindi a un numero considerevole mi piace oggi poter dire che grazie al nuovo intervento da parte del Ministero con ulteriori 6 milioni e 200 mila euro noi riusciamo a scorrere completamente quella gradatoria arrivando a 61 comuni cioè tutti quanti quelli che a suo tempo avevano partecipato ad una richiesta a fondi per riparare e mettere in sicurezza i loro territori da frane, smottamenti, strade che erano magari in pericolo di essere danneggiate da qualche frana quindi da dove eravamo arrivati con i primi due interventi noi con questi 6 milioni e 200 mila euro riusciamo a concludere tutto l'iter di quel bando e riusciamo oggi a finanziare con ulteriori 6 milioni e 200 mila euro tutti gli interventi rimasti ancora, diciamo così, non portati avanti Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha nominato la dottoressa Donatella D'Amico come nuovo direttore dell'ufficio scolastico regionale delle Marche 58 anni, abruzzese di Avezzano la D'Amico reduce dall'incarico di direttore generale per il diritto allo studio universitario del Piemonte Nelle Marche succede in questa carica a Ugo Filisetti Il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini ha annunciato oggi l'avvio di un bando destinato ad associazioni culturali, istituzioni sociali private, fondazioni e denti del terzo settore per il quale l'amministrazione ha stanziato 132 mila euro al fine di progetti culturali che valorizzino e promuovino la città L'obiettivo del bando è quello di rafforzare la ricchezza e la varietà del sistema culturale pesarese Le domande vanno presentate al Comune di Pesaro entro il 10 di settembre Ed ora concludiamo il nostro telegiornale riaccendendo le nostre telecamere al Festival Utopia un esperimento di lavoro e di inclusione che dopo un mese e mezzo all'alberghiero Santa Marta può già dirsi una scommessa vinta Il 28 giugno scorso nel cortile dell'alberghiero Santa Marta di Pesaro ha cominciato a prendere forma un'utopia che un mese e mezzo dopo non solo è divenuta una splendida realtà ma anche una scommessa vinta su una esperienza di condivisione, lavoro e inclusività Quella del Festival Utopia che con l'impegno di Onlus Gulliver, Comune e lo stesso alberghiero Santa Marta ha creato uno spazio fisso di ristorazione e intrattenimento votato all'inserimento lavorativo di neodiplomati trovando soprattutto uno spazio ad hoc per valorizzare i talenti dei ragazzi con disabilità Il tutto con circa 60 giovanissimi a gestire l'intera attività dalla cucina al servizio fino alla fine di agosto Il Festival Utopia è un sogno che continua fino a fine agosto Io mi invito a tutta Pesaro e Comune di Mitrofi ma anche da più lontano di venire a trovarci Sosteniamo questi ragazzi perché questo è un progetto innovativo mai sperimentato Ringrazio i miei concittadini perché abbiamo superato le 5.000 presenze a questo festival quindi siamo veramente molto onorati, vuol dire che i cittadini hanno compreso perfettamente il senso di questa sperimentazione che mette al centro il lavoro e mette al centro le persone con situazioni di disabilità e con condizioni di vita non tipiche e mi permette di essere un utopista L'utopista è colui che ha il continuo compito di denunciare e annunciare Abbiamo voluto fortemente questo festival per rimuovere le politiche che hanno a che fare con il lavoro in particolare con il lavoro per le persone che hanno difficoltà intellettive o difficoltà relazionali Questo mese intenso di lavoro tutte le sere, la mattina per la produzione di pasta fresca poi dalle 5 del pomeriggio qui è stato sempre pieno di ragazzi che hanno realmente messo in opera tutte le loro competenze per poter far star bene le persone che sono state qua La scuola ha avuto un ruolo centrale, propositiva come sempre cerchiamo di coinvolgere, di aprire anche alla scuola la cittadinanza e questo è il modo per farlo Quest'estate infatti la scuola non ha mai smesso di funzionare e siamo molto contenti insomma perché i nostri ragazzi animano questo progetto danno vita a questo esperimento che ha contagiato un po' tutta la cittadinanza del pesarese e non solo Siamo partiti in questa che all'inizio era un'avventura ma adesso sta diventando veramente una realtà e quella che era un'utopia adesso si è trasformata in una meravigliosa realtà Devo dire che questi ragazzi sono stati finora formidabili perché hanno dato gli esami di maturità verso fine giugno e primi di luglio e poi si sono catapultati immediatamente in questa esperienza veramente con tutta la passione e ancora sono qui a portare avanti con il sottoscritto e un gruppo di ragazzi dell'associazione che ci danno una mano tutto questo programma e loro vengono qui 3-4 ore, 5 ore del mattino poi la sera fanno il servizio e veramente un ottimo lavoro, anzi nell'insieme con il gruppo cucina e tutto il gruppo dell'associazione sala perché parliamo di ristorazione si è fatto un lavoro veramente egregio, siamo andati al di là delle aspettative Io penso che ci sia stata una grande possibilità, una grande opportunità perché appunto potevamo benissimo uscire ogni sera con i nostri amici, andare al mare invece abbiamo scelto di stare qua e penso che ci sia stato fatto un grande dono perché stare con tutti questi ragazzi è un grande processo di maturità per noi che comunque siamo oggettivamente da ragazzi abbastanza piccoli e penso che appunto sia una grande opportunità rispetto a molti altri ragazzi che non vivono questo mondo e che non sanno cosa voglia dire interfacciarsi con appunto tutti questi ragazzi e quindi ringrazio la Gulliver e ringrazio l'alberghiero e penso che sia un pensiero comune di tutti alla fine di questa esperienza ci possa essere un'inclusione per mio figlio e non solo per il mio, per tutti i ragazzi che stanno dimostrando di essere capaci e di essere all'altezza di poter gestire un lavoro in tutta la sua complessità scoprono di saper fare cose dove prima magari non erano convinti o credevano di non saper fare e quindi speriamo tutti che questo porti anche a loro nel futuro, in un prossimo futuro anche un inserimento lavorativo soddisfacente i ragazzi sono stupendi, aiutateci, sostentici fino alla fine, veniteci a trovare, partecipate condividete con noi questo progetto perché tutti insieme se siamo uniti possiamo andare oltre l'estate e con loro creare qualcosa anche durante l'inverno si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo un altro appuntamento che tra l'altro è stato presentato proprio questa mattina a Fano e che diventa uno nostro speciale di Rossini TV parliamo di birra d'Augusto che andrà in onda questa sera alle 21 e 20 un evento che a Fano andrà in scena dal 12 al 16 agosto birra artigianale street food, eventi culturali e musica live approfondiremo tutto questo con la nostra Nicoletta Tagliabracci e gli organizzatori di birra d'Augusto alle ore 21 e 20 e poi vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa Buongiorno Rossini che va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sempre in diretta dalle 7 e 20 anche con diretta sulla nostra pagina Facebook si conclude invece qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV